Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Addio a Hermes Valentini, storico carvista del carnevale di Fano Sabato l'ultimo saluto nella chiesa del Vallato La guardia di finanza sequestra Iesi 300 Flaconi di falso disinfettante anti-Covid Denunciate due persone Polizia penitenziaria aggredita dai detenuti Sittin di protesta nel carcere di Pesaro per ottenere più tutele e dignità Paura in autostrada Un romano ubriaco alla guida di un tir bloccato e denunciato dalla polizia Difesa della costa Domani pronta la scogliera di fronte all'anfiteatro Rasta Tilmodo Pontone si sposterà in zona Bersaglio Tra poco dopo il telegiornale Torna a Coglie al Metauro riparte dalla bellezza nel borgo di Serrungarina Un concerto piano e voce dal titolo Sulle radici del mio passato Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia Come avete sentito dai nostri titoli del sommario è venuto a mancare oggi all'età di 94 anni Hermes Valentini storico carrista del Carnevale di Fano Un artista che per oltre 50 anni ha realizzato opere rimaste nell'immaginario collettivo Oggi tanti fanesi lo hanno voluto ricordare Tra loro anche la presidente dell'ente carnevalesca Maria Flora Gianmarioli Un altro storico personaggio del Carnevale di Fano Un personaggio che ha reso grande il nostro Carnevale Purtroppo oggi ci ha lasciato Il professor Hermes Valentini Porgo veramente con tutto il cuore Le mie sentite condoglianze Anche a nome del Consiglio dell'ente carnevalesca Ricordando anche un piccolo aneddoto personale Dove nel carro Profumo di Donna Che fu scelto anche per un film di Giuseppe Tornatore In quel carro e in quel brio c'ero anche io ragazzina E quindi lo ricordo con particolare affetto I funerali di Hermes Valentini si terranno sabato mattina Alle 10.30 nella parrocchia San Paolo Apostolo Nel quartiere Vallato a Fano In base alle nuove normative La chiesa potrà contenere soltanto 135 posti Vi ricordiamo anche che sarà obbligatorio indossare la mascherina Saranno presenti dispenser con gel igienizzante E alcuni volontari della parrocchia Accoglieranno i fedeli all'ingresso Per aiutarli a prendere posto Ed ora proseguiamo con la cronaca La Guardia di Finanza di Iesi Ha sequestrato oltre 300 flaconi di spray igienizzante Da utilizzare come prevenzione contro il Covid-19 In un negozio di una catena commerciale I prodotti erano falsamente pubblicizzati E definiti sulla confezione come capaci Di un'azione disinfettante contro virus, batteri e funghi Riportando in etichetta una croce rossa Simbolo che indica il presidio medico-chirurgico Al contrario, gli spray erano privi Delle necessarie autorizzazioni del Ministero della Salute Tali da indurre in errore il consumatore Denunciati per frode nell'esercizio del commercio Sia il titolare dell'azienda produttrice Sia l'amministratore della società che li vendeva Si tiene di protesta questa mattina davanti al carcere di Pesaro Dopo le aggressioni subite dai detenuti I sindacati della Polizia Penitenziaria Hanno chiesto più rispetto e più tutele Per gli agenti chiamati a mantenere l'ordine Ma anche la legalità all'interno degli istituti di pena Il loro supporto anche diversi partiti politici Giù le mani dalla Polizia Penitenziaria Chiediamo più tutele e dignità Uniti verso il cambiamento Sono le richieste dei sindacati Che hanno indetto una manifestazione pacifica Davanti alla casa circondariale di Villa Fastigi Violenze fisiche, verbali, doppi turni Ma anche pochi strumenti per la difesa personale E strutture fatiscenti Dopo l'ennesima aggressione subita da un poliziotto Nel carcere pesarese È stato organizzato il sit-in Per lanciare un messaggio di solidarietà Ai colleghi indagati per i reati di tortura Negli istituti penitenziari d'Italia Come in quello di Santa Maria Capoavetere Nel Casertano Dove sei agenti sono rimasti feriti A causa di una rivolta dei detenuti Siamo partiti dal 3 giugno Proclamando lo stato di agitazione Del personale pesarese Associato all'assenzione della mensa Quella di oggi non è l'apice della protesta Ma è solo una tappa Perché le promesse non ci bastano Le promesse ci hanno portato qui oggi Adesso vogliamo dei cambiamenti concreti Ci definiscono l'ultima ruota del carro Ha raccontato l'assistente penitenziario E noi vogliamo dire a chi lo guida Che se si rompono le ruote Il carro si ferma Basta l'impunità di chi aggredisce Coloro che indossano la divisa Basta a chi non permette agli agenti Di organizzarsi una vita privata Siamo persone e non numeri Il problema è anche il rapporto numerico E anche la normativa Chi si assumerebbe la responsabilità Di utilizzare tali strumenti Con la paura dietro l'angolo Di essere poi indagati per il reato di tortura Non basta solamente dotare La polizia penitenziaria di strumenti Dietro ci deve essere una norma Che tutela chi poi opera Con determinati strumenti Siamo nel 2020 È una vergogna Che si vadano a ricercare Ancora cellulari A tastoni Nelle camere di pernottamento Ci sono i jammer È una strumentazione Capace di inibire Il segnale GPS dei telefonini Basterebbe questo Un piccolo investimento Per risolvere tanti tanti problemi Se ci fossero stati già i jammer Probabilmente queste rivolte Degli ultimi mesi Non sarebbero state così perfettamente coordinate Perché nessuno ci fa caso A questa cosa qua Perché noi siamo impegnati quotidianamente Nei reparti detentivi E quindi possiamo avere più condizia della realtà Benissimo Allora venite a informarvi da noi Ve lo diciamo noi Come si salva la polizia penitenziaria Abbiamo letto le proposte Di dotarci di taser O bombolette Al peperoncino Ma non sono sufficienti Ci spiega Scognamiglio Il rapporto tra agenti e detenuti È infatti 1 a 50 Inoltre viene richiesta Sia più meritocrazia Che una ristrutturazione Della caserma pesarese Ad oggi Hanno precisato i sindacati Non abbiamo ottenuto risposta Dall'emergenza covid In poi Praticamente Vede aggressioni Verbali Minacce Tutti i giorni Nei confronti dei colleghi Che A stento Riescono a lavorare All'interno delle sezioni Sono costretti a subire Insulti Sputi E questo non è più possibile Non è più tollerabile Le aggressioni ci sono anche fisiche Colleghi che vanno al pronto soccorso E non riescono a finire il turno Questo non è più tollerabile Noi portiamo una divisa Indossiamo una divisa Rappresentiamo lo Stato E la direzione E i superiori uffici Ci devono tutelare A sostegno della polizia penitenziaria di Pesaro Anche il sindacato autonomo Sappe Che denuncia le problematiche Da oltre due anni Una battaglia che continua Poliziotti penitenziari Solo per fare un esempio A chi non conosce l'argomento Sono costretti a operare In sezioni detentive Con 100-150 detenuti A mani nude Il polizia penitenziario Non c'ha né manganello Non c'ha né sprite Non c'ha né telelaser Non c'ha niente E questo Lo si è visto anche nelle rivolte Noi siamo costretti Ad affrontare 400-500 detenuti A mani nude Per ripristinare l'ordine Alla sicurezza degli istituti E oggi veniamo accusati Di tortura Per quei fatti Questa è l'assurdità E l'incapacità Di l'amministrazione penitenziaria Di gestire le carceri italiane Come annunciato Anche la Lega è scesa in campo Con un presidio di solidarietà Testimoniamo la vicinanza Coi fatti Ha detto al megafono Il consigliere regionale Mirko Carloni Quello subito dagli agenti È un disagio concreto E obiettivo E la politica Non può far finta di nulla Qua insieme ai dirigenti Della Lega Della provincia di Peso Rubino Al segretario E alla segreteria provinciale Siamo qui presenti Per testimoniare La nostra vicinanza Agli sindacati Delle forze di polizia penitenziaria Che vivono Una situazione drammatica Dimenticati Dalle istituzioni Soprattutto dal governo In modo particolare Si stanno verificando In questo momento Tanti atti criminali A danno dei personali Della polizia Che noi vogliamo In qualche modo Sollevare L'opinione pubblica Perché non possono Rimanere nascosti E devono invece Essere conosciuti Il poliziotto penitenziario Sta vivendo Veramente un disagio E la politica Di questo Non se ne fa più carico Da molto tempo Da troppo tempo Lo ha definito Invece un gioco al massacro Francesco Baldelli Vice presidente Nazionale ANCI E responsabile Nazionale Autonomia E locali Di Fratelli d'Italia Quindi intervenire Immediatamente Sia per la tutela Della sicurezza Di questi uomini In divisa Che ricordiamo Sono servitori Dello Stato Che garantiscono L'ordine E la sicurezza Negli istituti Di detenzione Ma anche interventi Per garantire L'efficienza Delle strutture Che ci viene ricordato Sono in un degrado Anche delle condizioni Igeniche Basti pensare Alla caserma Che accoglie Gli agenti Di polizia penitenziaria Quindi è necessario Intervenire Innanzitutto Per potenziare Gli organici Che sono ridotti Ai minimi termini Ma anche per dotare Di mezzi di Dissuasione E di protezione Gli agenti stessi È necessario È necessario Garantire Lo stesso Status Delle altre forze Di polizia Agli agenti Di polizia penitenziaria Come? Prevedendo Un reale comando Generale Della polizia penitenziaria Alle dirette dipendenze Del ministero Di grazia e giustizia Ovvero Al ministero Degli interni Presente al sit-in Anche l'associazione Politica Nuova Fano Che ha lanciato Un appello al governo La polizia penitenziaria Sta lottando In questo periodo Con le problematiche All'interno Delle case circondariali A mani nude Non hanno strumenti Non hanno mezzi obsoleti Allora Bisogna che Qualcuno se ne occupi Una battuta Al presidente Della regione Non ha ottemperato Alle promesse fatte Per quello che riguarda L'emergenza covid I nostri agenti Della penitenziaria Sono stati costretti A fare i test sierologici A spese proprie E questo è Veramente Un atteggiamento grave E irrispettoso Nei confronti Dei nostri amici In divisa Donne e uomini In divisa Che fanno un lavoro Molto importante Per la comunità Guida ubriaco Il tir è in autostrada Ma la polizia Lo intercetta E lo blocca E' successo ieri Intorno alle 14 Quando gli agenti Della stradale di Fano Hanno individuato Un auto articolato Con targa rumena E di oltre 40 tonnellate Che zizzagava Pericolosamente Lungo la carreggiata Nord della 14 In località Ancona Non senza difficoltà Gli agenti Sono riusciti A mettere in sicurezza Prima il flusso Veicolare E poi il tir Riuscendo a scongiurare Conseguenze disastrose A bordo C'era un cittadino rumeno In evidente stato Psicofisico alterato L'uomo infatti Aveva un tasso alcolemico Pari a 2,73 grammi Per litro La polizia stradale Ha denunciato Il camionista Per guida In stato di ebrezza Ipotizzando Anche tutte Le aggravanti Del caso La patente È stata immediatamente Ritirata E il mezzo Fermato Per ragioni Di sicurezza Invece Nella provincia Pesarese Verranno installati Due dispositivi Di controllo Remoto Della velocità È quanto stabilito Questa mattina Durante una riunione In videoconferenza Preseduta dal prefetto Vittorio Lapolla Insieme ai vigili urbani Polizia stradale E ANAS Un dispositivo Verrà posizionato Nel tratto compreso Tra Fosso 6 ore L'ingresso Del centro abitato Di Pesaro Mentre il secondo Lungo la monte La battese All'altezza dell'intersezione Con via Transimeno Questi tratti di strada Come si legge In una nota Sono caratterizzati Da un elevato Flusso di veicoli Che specialmente Sulla statale 16 Diventa caotico E pericoloso Nel periodo estivo A causa Della presenza Di stabilimenti balneari Attività di ristorazione E turistiche Inoltre È stato riscontrato Anche un alto tasso Di incidenti Dovuti all'elevata Velocità Dei mezzi Ed ora Torniamo a parlare Di scuole In particolare Dell'ex Carducci Perché Il comitato del Nolfe Si appella nuovamente Alla provincia Di Pesaro Rubino Per la mancata risposta Sul futuro Dello stabile Tutti i dettagli Nel servizio Di Francesco Salvago Il comitato per la salvaguardia Del liceo Nolfe Ritorna all'attacco Nei confronti Della provincia In merito Alla situazione Dello stabile Carducci Dopo le due possibili Soluzioni Annunciate nei giorni scorsi Dal dirigente Del servizio Di edilizia scolastica Maurizio Bartoli Che ha fatto presente Due soluzioni tecniche Una a breve termine Che riguarderebbe La messa a disposizione Di Aule In altri plessi Scolastici Di Fano Che accoglierebbero I ragazzi Del Nolfe In vista Della riapertura Delle scuole A settembre Mentre l'altra soluzione A medio termine Da attuare Nel settembre 2021 Riguarda La disposizione Dell'intero Istituto Battisti E gli studenti Del Nolfe Il comitato Il comitato lamenta La mancata Risposta Delle istituzioni In merito Alle perizie Statiche Sismiche Effettuate nel luglio 2019 Sullo stabile Dove non erano Emersi elementi Di elevata criticità Del Carducci Per procedere Alla demolizione E ricostruzione Dell'edificio Il comitato Chiede Per quale motivo La provincia Si rifiuta Di procedere Con ulteriori accertamenti Ovvero Prove di carico Che dimostrerebbero In modo definitivo Il reale stato Della struttura La perizia A detta degli esperti Che l'hanno letta È incomplita Ha analizzato Soltanto Alcuni elementi Alcuni Pilastri Presi a campione In numero Assolutamente ridotto Rispetto alle dimensioni Dell'edificio Ma soprattutto La perizia Si conclude Con una frase Molto importante Che dice Che non emergono Elementi di criticità Tali da far pensare Ad un crollo imminente Invece La provincia Cosa ha fatto Ci ha fatto credere Attraverso la stampa Che l'edificio Stava per collassare Stava per essere In qualche modo Aveva una criticità Molta elevata E non era vero Ora si sta parlando Quindi Della demolizione E ricostruzione Senza andare Verificare Se di fatto Sia necessaria Servirebbero Circa 3 milioni È stata fatta Questa previsione A spanne Di spesa E circa Un anno e mezzo Di lavoro Per la ricostruzione Servirebbero Dai 7 Ai 10 milioni E minimo Sapendo poi Come vanno Questo genere di cose Minimo 5 anni Quindi Se è possibile Pensare Che ristrutturare Si possa E allora È ragionevole Andare Verso quella direzione Seconda domanda Che abbiamo fatto Alla provincia Perché In questi mesi Da dicembre Si sta dicendo Che bisogna fare Intanto Un progetto Per partecipare Ai bandi E da dicembre Ancora Non si è fatto Neanche Mezza riga Di progetto Questa è una domanda Che abbiamo posto E non abbiamo avuto risposta La terza domanda è Perché Se si fanno domande Alla provincia Invece di rispondere Il massimo organo politico Che è il presidente Vengono a risponderci Dei tecnici Dei tecnici Dipendenti Degli uffici Noi abbiamo bisogno Di risposte politiche Abbiamo bisogno Di risposte In merito Alle questioni Che poniamo Non risposte tecniche Quindi Dov'è il presidente Della provincia? E rimaniamo a Fano Domani in Sassonia Si concluderanno I lavori per realizzare La scogliera Davanti all'anfiteatro Rastat Si proseguirà In zona Bersaglio Avanzano i lavori Per la difesa Della costa A Sassonia Di Fano Tre nuovi segmenti Di scogliere Si aggiungeranno Alle opere Già realizzate Tra il porto E la focce Del fiume Metauro Domani Verrà terminata La prima barriera Di fronte All'anfiteatro Rastat Un segmento Che fa parte Del progetto Iniziato Con l'investimento Di 3 milioni Di euro Messe a disposizione Dal governo Tramite la regione Marche Fondamentale Anche la collaborazione Della Capitaneria Di Porto Siamo andati Ben oltre Le nostre Piurose Aspettative Abbiamo chiesto Delle deroghe Che ci sono state concesse E ci sono state concesse Fino al 30 giugno Quindi Ringraziamo anche Per la pazienza Per quanto riguarda I bagnanti Insomma Che in questi giorni Stanno guardando Questi lavori Che stanno andando avanti Ma noi ritenevamo Siano Lavori molto importanti Molto utili Per preservare Le nostre coste Quindi Continuano Sono pressoché finita La scogliera Qui davanti A Bagni Maurizio A protezione Anche dell'anfiteatro Rastat E proseguiranno Appunto Fino al 30 giugno In zona Bersaglio Dove Verranno rifiorite Le scogliere Sommerse Che già ci sono A maggiore protezione Quindi Della zona di Bersaglio E dunque Andiamo avanti Non ci fermiamo Neppure in un periodo Così Dove la gente Viene al mare Perché riteniamo Che la difesa della costa Sia una nostra priorità E anche Per tutelare Il turismo E le bellezze Di questa città I lavori erano Iniziati a maggio A causa del blocco Delle attività Dovuto all'emergenza Covid-19 Dai prossimi giorni Come spiegato Dal vice sindaco Il motopontoni Si sposterà A Sassonia Sud Per proseguire Fino alla fine del mese Con l'intervento Di rafforzamento Delle tre scogliere Soffolte E spero Entro il 30 giugno Di poter iniziare Anche i lavori Davanti Delle due ulteriori Scogliere Che poi andranno A chiudere Questa già fatta Con il porto Quindi una buona notizia Spero Per la città di Fano E noi siamo Particolarmente contenti E ritorniamo Ringraziare La regione Marche Che alla fine In vari modi E anche Come dire Anche recentemente Ha potuto Ha finanziato Questi interventi E sempre a Fano Prendono il via Le iscrizioni Per i centri estivi Dedicati ai bambini Da 0 a 3 anni Sentiamo tutti i particolari Nell'intervista Che abbiamo realizzato All'assessore Samuele Mascaren Grazie agli ultimi Aggiornamenti normativi È possibile Attivare anche i servizi Per la fascia 0-3 Che fino ad adesso Erano rimasti esclusi Del Dbcm Del governo Quindi ci siamo Attivati subito Per far partire Una fase di iscrizione Anche per il nido estivo Iscrizioni che inizieranno A partire da domani 19 giugno E si concluderanno Il 23 di giugno Tempi ristretti Per poter garantire Una partenza Del nido estivo A partire da lunedì 29 giugno Fino a venerdì 31 luglio Quindi contestualmente Ai servizi Di centro estivo Per l'infanzia Quindi un nuovo servizio Che sarà collocato Interamente All'interno Della struttura Del grillo In centro storico E per le iscrizioni Sarà possibile Come sempre Rivolgersi Sia allo sportello Online Sul sito Del comune di Fano Quindi www.comune.fano.pu.it O rivolgersi Direttamente All'ufficio Servizi Educativi Del comune di Fano Al numero verde 887 608 611 E a Pesaro Invece I nidi di infanzia estivi Saranno aperti Dal primo Al 31 luglio Lo comunica L'amministrazione comunale A seguito Del dpcm Dell'11 giugno Che tra le altre cose Consente L'apertura Dei servizi estivi Anche per la fascia 0-3 anni E introduce Importanti novità Sui principi Generali di Igiene E Pulizia Quest'anno è prevista L'apertura di 8 sedi Il doppio rispetto Alla scorsa estate Con una capacità Ricettiva complessiva Di almeno 160 posti Sarà possibile Iscriversi Entro il 22 giugno Soltanto online Oppure in caso di problemi Su appuntamento A partire A parità Di punteggio Avrà precedenza Il bambino Già iscritto Per il servizio Invernale Tra poco Andrà in onda Una nuova puntata Di Colli al Metauro Riparte dalla bellezza Il quarto appuntamento Farà tappa Nel borgo Di Serrungarina E vedrà Ospiti Una formazione musicale Lirico-classica Formata da Nicolo Zizzi E Arianna Palazzetti In un concerto Piano e voce Dal titolo Sulle radici Del mio passato E allora Ci lasciamo questa sera Con una piccola anticipazione Arrivederci If you try